Nel tardo pomeriggio di ieri si sono concluse le operazioni di recupero della turbosoffiante Aliseo affondata nel porto del canale di Fiumicino all'altezza di via della Torre Clementina. La barca, di proprietà della cooperativa di Biase, lunga 13 metri adibita alla pesca di Molluschi, è stata recuperata grazie all'intervento della ditta Leonardo Costruzioni. Il natante con il supporto di un autogru è stato sollevato permettendo ai sommozzatori di chiudere la falla di circa 30 cm dalla quale aveva iniziato ad imbarcare acqua. Sul posto è intervenuto il personale della guardia costiera per seguire tutte le operazioni che hanno consentito alla turbosoffiante di navigare. Adesso l'imbarcazione, prima di tornare in mare, dovrà essere trasportata in un cantiere nautico per un controllo sulla tenuta dello scafo e del motore. Si tratta del secondo episodio di questo tipo a distanza di circa un mese. Lo scorso 20 settembre, infatti, dopo un urto in banchina, era affondato anche il moto peschereccio Maria.